Brits can't counter a Gianna nel momento in cui la grabba, lei muore, però la devo grabbare Mi faccio le swiftness, gratus glory e provo a tirarla dritta Le bet sono chiuse Guarda che se vado nel cespuglietto Auto? Mamma mia, non l'ho mai fatta una roba del genere Andaggio a noi Oh, sbagliato, bro Oh C'è una ultimid Siamo lei Orrei Gianna Ce l'hai il flash Non muore, non mi va, oddio con quello si E si mette a fare il coglione con Auto grabbare La domanda è come cazzo è fatto a missarli tutti? Non ha senso Devo sicuramente so apparire Ha fresciato? No Devo fare lei, non c'ho voglia, bro Gigi Andiamo a dire a Khan, coach Andiamo a dire a Khan First pick E va bene Ci sta Ancora un po' bisogno della vostra energia No, dovevi dire adesso No, Paolo, scusami, mi sono sbagliato Ovviamente Paolo, scusami, mi sono sbagliato ovviamente Serve questa partita Ovviamente ci serve questa partita Sono tipo in live dalle tre Qui con te Allora, come ti chiami? Davide Bimbo Speciale A parte che è un nickname incredibile Vip Davide Bambino Speciale Tiè, Davide Bimbo Speciale Ma pure io Amba, te invece ti banno Su questa live non dovete mai dare nulla per scontato Sono pazzo Un po' il flash moriva, no? Forse sì Oh, porco 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 Da tre punti questa Posso dire una cosa forte Secondo me era comunque più giusto la giocata che È comunque più giusto flashare? Non è Mixed Fa danno misto Ma la questione vera Per cui è molto bello avere armor È che Miss Fortune non è un buon Non è un buon ad carry contro i tank E ci sarà letality in questo game E quindi vera armor è worth Non avevo abilità Ma i tabi li faresti? I tabi? Fammi Fammi rivedere un attimo l'anitino Oh Che brutta situazione Non sono sicuro di quello che ho visto Prima o poi sarebbero morti Paolo ma è un gank O una maratona È che ci credi più È che ci credi più Ma la corsa campestre questa Hai fatto il giro della mappa a piedi in pratica E che dove fa? Mamma mia se sto pulito in culo Sì Questa era qui È ovvio che c'è Puzza di panza no? Ciao Paolo sono ubriaco e triste perché la mia Giuseppina mi ha lasciato Si sono quello che hai sfottuto un po' di giorni fa perché mi ero appena lasciato Quindi non posso che dirti ricottiere Guarda 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 quanto tanko Eh si Ok bravo tiro la sta cartona gialla E qui direi che Dovevo prendere gli assist ma volevo ammazzare pure gli altri Quindi io facevo la E Io facevo W e ho grittato per le kill Qui direi che le squadre cominciano a davviare Ecco 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 Mi ha fatto double shot Mi ha fatto tipo uno shotgun Bro mi sono partite due palle Che cosa? Ma avete visto? Che le squadre cominciano a davviare Oh 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 Ahimè così, c'è essere in disaccordo, Ahimè, così, c'è essere in disaccordo, ahimè disagree, since Flaket was smurfing all the trades. Meanwhile, il nostro Twisted Fate cerca di morire di nuovo. Ah, così, la S ha deciso che non doveva morire. Allora, amica Catarina, parliamone. Non sarebbe male se TF andasse ad esempio, così magari riusciamo a venirne fuori. Ahahahahahahaha! What? Tutto c'è veramente sbagliato. Bro, non posso farmi nulla. Una da una zona e una da Jax. Secondo me doveva ammazzare Gianna prima? Diciamo che i danni li fa la signora. Probabilmente la one shottava Gianna, sì. Sembra che one shotti anche Jax in realtà, quindi direi che la one shottava Gianna. andiamo a scelta che si prende le cartone. Bravo Paolo. Poi venite Challenger, siamo un game dal Challenger. La cosa che fa credere è che io non ho ancora fatto il mio team fight Cioè io non ho team fight Cioè io ho solamente baitato Io ho ancora tutte le ulti Se volete team fightare io sono pronto Adesso li voglio vedere quando mi parte l'ultimo come reagiscono Oh ho sbagliato ho sbagliato No no in realtà non lo so se ho sbagliato Cioè Ci risiamo siamo tornati E siamo di nuovo Challenger Challenger 20 minuti per la fine del Ancora più punti di prima Va bene io mi fermo qua Segu Yes Chat possiamo fare un grande ringraziamento a Segu Perché mi sprona mi motiva Mi dà la forza di fare il Challenger Anche se non me lo merito Ma posso stare qua Ma basta perché sta bene arrivare il Challenger Faccelo vedere Paolone Ingrandisci questa merda Oh 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 Minus che è mai del Challenger Oh 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 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Grazie a tutti.